No, no, ti chiedo una cosa Fabrizio, il 25 novembre, tra pochissimi giorni, si decide se torni in carcere o rimangono gli arresti domiciliari. Ti voglio chiedere le tue sensazioni. Prego Dio che mi aiuti a non tornare in carcere, ma non per me che non me ne frega niente, ma perché mio figlio sarebbe la morte per mio figlio e questo non vuole essere un atto di pietà. Allora, detto questo vorrei dirti, e non lo dico perché, che ti voglio un bene dell'anima e che non esiste un uomo che mi è stato così vicino come ci sei stato tu in quell'anno, lo sai. Voglio bene Asia e voglio bene mia mamma. Forse siete le uniche tre persone che in questo momento mi sono vicino. Grazie per questa trasmissione. Fabrizio, lo sai che nella vita anche persone che hanno concetti di vita diversi, anche lontani, devono capire le difficoltà che gli altri vivono. Io so bene che sei il diavolo per molti, però stare vicino a chi sta in difficoltà secondo me è importante. Poi è sbagliato, giusto che sia, anche a me non me ne frega di quello che dico. In bocca al lupo. Ad Maiora, grazie a Fabrizio Corona, grazie agli ospiti. Ciao Massimo.